Ci siamo, ci siamo, ci siamo, eccoci, una nuova rapida, veloce, utile e digeribile puntata di Errata College. Benvenuti, buon ascolto e buon apprendimento. Buongiorno a tutti, benvenuti in Errata College. Oggi siamo qui per discutere di un tema molto spinoso con delle ospiti donne, grandi esperte di Steinbeck e del suo romanzo Uomini e Topi. Il tema spinoso riguarda la moglie di Carrey, donna di facili costumi. Sarà l'occasione per parlare anche della condizione femminile oggi, così come viene vissuta, e di agganciarci ai temi che questo romanzo ci ha proposto. Allora abbiamo con noi, d'arrivo da Okinawa, dove si è svolto un simposio internazionale proprio su questo tema, le figure femminili nel romanzo di Steinbeck, la nostra esperta che è Vanessa Regia. È arrivata Vanessa, pronto? Vanessa, Regia mi dice qualcosa, Vanessa ci sei? Sì, ci sono. Benissimo, ben arrivata Vanessa, hai fatto un buon viaggio? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Bene, mi fa molto piacere. Allora Vanessa, a te la parola. La moglie di Carrey. Allora, ai giorni d'oggi, la figura della donna si basa su un fattore prettamente estetico. Molti hanno l'idea che una donna facile sia con lei che indossa abiti molto corti e scollati, per far sì che attiri l'attenzione verso di lei. Quindi l'uomo in sé, pensando al fatto che non ci possa essere un eventuale futuro, con quella determinata persona, perché appunto non considerata seria. Viene presa in giro, giocando con le sue emozioni e ferendola. A parer mio, non è l'abito che determina la persona. Alla fine si tratta solamente di gusti. Non perché una donna si vesta in maniera eccentrica o si trucchi tanto, vuol dire che lo faccia per gli altri. Molte volte lo fa per se stessa, magari può essere uno scudo per coprire le sue debolezze e insicurezze. Però come ci sono donne serie, ci possono benissimo essere quelle meno serie, non si mette in dubbio. Però lo stesso discorso vale per il genere maschile. Lo stesso discorso vale per il genere maschile. Mi sembra interessante, Vanessa, il fatto che tu dica che quindi l'uomo non giudica affidabile la donna che all'apparenza sembra essere di faccio di costugno. E quindi non adatta a costruire una vita con lei. Però allo stesso tempo il maschio la ricerca. E quindi questa è una bella contraddizione. Sì. Poi parlando ad esempio della moglie di Curly, come avevo già accennato le scorse lezioni, secondo me non è una donna da considerare dai facili costumi, semplicemente è poco valorizzata dal marito, che è intento fare e tutt'altro finisce così poi per trascurarla. Quindi da una parte, tra virgolette, normale che una donna trascurata cerca altre attenzioni da parte di altri uomini. Forse la cosa sbagliata è quello di non confidare le proprie emozioni, e le sensazioni con il proprio partner, che molte volte sottovaluta la cosa non rendendosene conto. Bene Vanessa, grazie per il tuo intervento, che sicuramente offre una serie di spunti ai nostri ascoltatori. Quindi si parla proprio del parlare, del parlarsi anche all'interno di una coppia. Mi sembra una cosa molto sensata. Abbiamo anche altri ospiti in studio. Vediamo un po' della regia, chi mi passa. Pronto? Pronto regia? Io e io. Sì? Bea, abbiamo Beatrice. Beatrice ha scritto una piccola enciclopedia su Steinbeck, una robetta in 12 volumi, dove analizza tutti i suoi romanzi. Quindi io pregherei a Beatrice di usare con i nostri ascoltatori un linguaggio semplice, in modo che possano capire. E grazie per la tua presenza, Beatrice. Allora, a te la parola. Prego. Nulla. Parlando, do la voglia di farle. Comunque nel libro, noi leggendo il libro pensiamo che non c'è più molto con la storia, perché appunto non c'è un suo nome, perché le donne in quel periodo non erano a basso livello rispetto agli uomini. Però secondo me c'entra molto, perché comunque nel libro rappresenta un pericolo, nel senso che se un uomo ci trovava con lei, cercava di dare attenzione a lei, comunque il marito si arrabbiava. Però non contiamo il fatto che comunque lei, diciamo che secondo lei era nata per il cinema, solo che lui non voleva e quindi l'ha trascurata lasciandola in un rancho in California. appunto, quindi secondo me c'entra molto. Grazie. Sì, sì. Sì, vuole raggiungere qualcosa, Bea? Comunque sempre sul discorso prima che ha fatto Vanessa, che le donne sono sempre a basso livello rispetto agli uomini, anche oggi. Cioè l'altro giorno, so che non c'entra molto, ma comunque l'altro giorno stavo leggendo il dizionario su Treccani. Sì, pronto? Questa è una cosa. Quanto, Beatrice? Puoi ripetere un momento? Stavi leggendo il dizionario Treccani, che cosa? Pronto, regia, abbiamo un poema di collegamento. Pronto, pronto. Beatrice si trova a San Diego in questo momento e abbiamo qualche problema di linea, Beatrice. Allora, Beatrice, Beatrice, ci risentiamo tra qualche istante appena la linea sarà migliore. Intanto sentivo che abbiamo un altro ospite, che è Assia, che voleva intervenire. Regia? Riuscite a risolvere? Sì? Pronto, Beatrice, abbiamo di nuovo Beatrice. Pronto, Beatrice, ci sei? Sì, 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 lei interna. Ecco, eravamo rimasti alla Treccani, stavi leggendo una voce del dizionario Treccani. Che cosa? Il significato donna, che dice che le donne devono, cioè, stare a casa, pulire, non è praticamente obbedire agli uomini. Fantastico. Sempre quando c'entrava il discorso di una cassa con Vanessa. Certo, storicamente c'è proprio un atteggiamento di questo genere nei confronti delle donne. inutile chiederti se tu sei d'accordo con questa definizione, Bea. Tu pensi che la tua vita consiste nello stare a casa, acudire il marito e pulire l'alloggio? No, ovviamente no. No. Non sono proprio queste cose. Però è strano, scusa, perché, per esempio, a me piace fare le pulizie, perché poi trovo tutto in ordine pulito. È bello, no? Cosa dici? Ma sì, ma in realtà c'è, ci sono quei momenti che magari si sto a casa, pulisco, camera mia, pulisco il piatto, tutto questo problema, perché magari, c'è, ho voglia di fare quello, però, in generale, se dovessi avere una casa con mio marito, se, cioè, fare un, diciamo che mi dare un ruolo, tipo, se vuoi apparecchio, io piuttosto sparecchio, lavo piatti, però se io cucino, tu lavi piatti, comunque cercare di fare tutto insieme, collaborare, non, tu vuoi lavorare. Insieme, mi piace questa cosa, Bea, insieme e collaborare, fantastico. Speriamo che i nostri ascoltatori facciano tesoro dei tuoi preziosissimi insegnamenti e quindi, la regia, cosa mi dice la regia? Abbiamo un collegamento ancora, mi sembra. Sì, eccolo qua, abbiamo Marta. Io volevo collegarmi al discorso che ha fatto Bea sul significato della donna, che è una mentalità che si trova, purtroppo, magari anche oggi, anche al, cioè, specialmente al sud d'Italia, io già vedo, magari, i miei nonni che sono siciliani e loro, per loro, la donna deve fare tutto, quanto deve pulire, deve cucinare, deve fare tutto e loro poi li passano lì, fanno quello che fanno, appunto, gli uomini. Ma io questo penso che sia più che sbagliato, anche perché, se si è una coppia, bisogna farle, cioè, le cose, siccome si è in due, si fanno in due. Quindi, appunto, se uno lava i piatti, l'altro spolvera e così. Poi, la figura ormai della donna, cioè, appunto, come stavano dicendo prima, Beatrice e Vanessa, io penso che l'abito non faccia il monaco, nel senso che, se una donna magari si viste un po' scollata, un po' succinta, allora sicuramente verrà data un'idea sbagliata di lei, ma perché questo? Perché è colpa della società. Perché non si tratta soltanto di uomini, ma anche tra donne, che magari una ragazza vede un'altra ragazza, magari con un vestito corto, fin troppo corto, e la gente sta subito lì a criticarla e ad aggredirla. Ed questo è sbagliato, perché tra donne bisognerebbe un po' avere, sostenersi. E invece no. Caspita, Caspita Marta, devo dire che ha introdotto degli elementi originali molto interessanti, il fatto di sostenersi tra donne, sicuramente, ma anche il fatto che una parte delle donne forse è anche condizionata da un'ideologia maschilista, da un'ideologia che comunque resta dominante all'interno della società e questo è un peccato. È un peccato perché spezza la solidarietà femminile che dovrebbe esserci. E poi anche tu, anche Marta appunto, cari ascoltatori, insiste su questo concetto della cooperazione in famiglia. E dalla regia, scusate, mi dicono che abbiamo un illustre ospite che sta viaggiando, attualmente si trova in aereo, un aereo supersonico che sta facendo un viaggio molto lungo, si chiama Assia. Assia è l'autrice di un paio di romanzi di grande successo che hanno al centro della questione proprio le donne. Regia, vediamo se riusciamo a stabilire il contatto. pronto Assia, ci sei? Buongiorno. Bene, come sta andando il viaggio Assia? Tutto a posto. Tutto a posto. È confortevole l'aereo? Sì, abbastanza. Abbastanza, bene, sono contento. Grazie per essere qui Assia. quindi vuoi continuare questo discorso sulla moglie di Carla e il ruolo della donna oggi? Io direi anche, ti chiederei anche tu come ti senti proprio anche come donna poi nella società di oggi. Comunque, ti lascio la parola, puoi essere libera di essere libera di Assia. Sì, ho sentito le ragazze prima, sono abbastanza d'accordo con tutte, tranne per il fatto che secondo me è l'uomo che ha sbagliato perché non le ha dato attenzioni. Cioè, per come la vedo io dal mio punto di vista, lei, quando ha avuto delle mancanze di attenzione da parte del suo uomo, ha sbagliato nel cercarle in altri uomini. Cioè, magari ne poteva parlare con lui e poi se magari lui anche lì non le dava attenzioni, faceva alto, cioè, piuttosto lo lasciava, stava sola, c'è sbagliato cercare attenzioni negli altri uomini. Cioè, se non ti ha accontentato il tuo uomo, non credo che ti possano accontentare altri uomini per come la ragiono io. Cioè, se non è sbagliato nel cercare attenzioni in altri uomini. Sì, perché tu dici alla fine, diciamo, non si è innamorata di nessuno, no? Esatto. Perché se fosse innamorata va bene, ma non è che puoi sostituire una persona con un'altra come se fosse o nei giocattoli, no? Esatto. Cioè, se il tuo uomo non ti vuole bene, ti vuoi bene te in primis. Non vai a cercare attenzione in altri uomini che magari poi ti prendono solo in giro. Molto bene. Questo, guarda, tocchi un aspetto psicologico molto particolare, il volersi bene e quindi l'autostima. L'autostima è una questione essenziale perché se manca l'autostima poi tu l'hai detto tu stessa rischiamo di essere preda di nuove delusioni e infatti e infatti la donna di Carly poi capiterà questo e addirittura poi ci lascia la vita perché è nelle braccia di chi finisce alla fine? Di Lenny. Finisce proprio nelle braccia di Lenny cioè della persona come dire proprio assolutamente meno indicata e talmente disperata che finisce tra le sue braccia e quindi poi muovirà. Molto interessante grazie per quello che dici. Ti chiedevo appunto ma tu come donna giovane donno come vivi la condizione femminile il tuo essere donna oggi donna che poi diventerà adulta quindi una famiglia penso tu abbia le tue idee ecco come vedi tu la tua situazione? La mia situazione la vedo cioè normale cioè per come la vedo io mi dispiace a volte vedere delle ragazze della mia stessa età che si vendono per pochissimo si danno subito cioè nel senso si danno subito al ragazzo senza farsi conquistare cioè proprio valgono tanto ma magari agli occhi di altri si fanno valere poco cioè nel senso dovrebbero volersi più bene. Insistiamo certo su questo tema su questo tema del darsi del concedersi così sminuendo il proprio valore tu hai detto ragazze che valgono molto sì questo lo noto anch'io da insegnante che tanti miei studenti e studentesse di grande valore però diciamo non hanno la stessa percezione che ho io del valore che invece di cui loro sono portatrici bene allora io vi ringrazio cari ospiti per la vostra partecipazione vi chiederei solo rapidamente una frase conclusiva un motto così al volo per chiudere per chiudere la nostra trasmissione cominciamo magari da Vanessa Vanessa un consiglio un'idea un motto uno slogan da dire ai nostri ascoltatori io direi che il più azzeccato sarebbe l'abito non fa il monaco l'abito non fa il monaco Marta cosa puoi consigliare cosa puoi dire per chiudere la trasmissione penso bisogna volersi più bene e rispettarsi volersi più bene e rispettarsi Bea io dico che secondo me ognuno deve fare quello che vuole senza che si faccia quindi prendersi la sua libertà e non farsi condizionare grazie Bea Assia a te la parola conclusiva di questa trasmissione direi vali tanto rispettati vali tanto rispettati fantastico questo è un poster vali tanto rispettati e spero che questo sia un viatico che i nostri ascoltatori possano mettere in pratica grazie a tutti grazie ai nostri ospiti grazie agli ascoltatori a risentirci alla prossima puntata abbiamo trasmesso erata coverage alla prossima ragazzi sia grazie a tutti Grazie.